Nell'ambito del SAE 2024 si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi quarto anno da parte della Scuola Edile di Bologna ai suoi primi allievi che hanno conseguito la qualifica professionale di tecnico edile. Una grande soddisfazione che apre porte sempre più importanti a chi si affaccia al mondo delle costruzioni. Siamo molto orgogliosi di questo risultato. I primi ragazzi che prendono questo diploma, tutti i ragazzi che hanno certamente uno sbocco in ambito lavorativo. Per premiare questi ragazzi eroghiamo loro una borsa di studio che ha da un lato la caratteristica di gratificarli nel percorso che loro hanno raggiunto e dall'altro comunque un piccolo contributo economico che ai ragazzi giovani male non fa. Partirà a novembre un nuovo percorso di questo tipo e quindi altri ragazzi che con il quarto anno raggiungeranno il diploma da tecnico edile. Vorrei sottolineare che comunque anche il percorso del quarto anno è un percorso 50% aula, 50% stage lavorativi. Quindi un percorso scuola lavoro che fa sì che le persone che escono sono di fatto già operative.